Buonasera, anche stasera, come tutte le sede su Svina, siamo qua al ristorante El Hable in compagnia di... Ciao! In compagnia di? Zubi In compagnia di? Mano Ciao, ciao! E la signora? Mila, ciao! Ok, e qui abbiamo il signor, siamo in compagnia del signor? Io sei guagua Il guagua, il guagua Signor chi? Io sono il purman E la signora? La filipina Ok, insomma qui abbiamo di tutto E niente, tra un po' arriverà il cibo, le cibarie e gli altri amici ci raggiungeranno In questo momento, scusate se vi rubo il guagua, facciamo un'intervista al signor guagua No comment No comment Stiamo parlando, tipo dieci minuti fa, però vi aggiorneremo alle prossime, adesso ci riempimo la panza, ecco la signora che esce dall'ufficio, con noi va bene, ancora si è soffermata lì, ecco da là Un saluto alla gente che ci vede, 30 milioni di spettatori Cosa sono io? Canale 5 Canale 5 Ah buonasera, buonasera Italia 1 Italia 1 Canale 5 Ecco qua L'hambra è detto vaffanculo Ciao Ciao Ciao